Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale youtube per un nuovo aggiornamento sui mercati finanziari abbiamo chiuso il mese di agosto tutto sommato in buon guadagno i mercati hanno chiuso il mese di agosto in buon guadagno questo non succedeva da volta 30 anni con questi rialzi di solito il mese di agosto non è mai stato statisticamente un mese veramente eccezionale per i mercati finanziari anzi tutt'altro e quindi questo lascia comunque ben sperare i dati che arrivano dalla zona euro addirittura fanno sperare a un futuro leggermente migliore di quello che ci si poteva aspettare soprattutto sul pil tedesco che non sembra essere poi così brutto come lo si può descrivere ma anche quello del resto dell'Europa e molte cose si stanno muovendo soprattutto in Italia il consorzio che si sta creando intorno al mercato della fibra con Team, con Fastweb che in questo momento ha impegnato anche Tiscali e ha fatto balzare il titolo di oltre il 28% e poi andremo a verlo un attimino e più tutta una serie di situazioni che stanno comunque muovendo i mercati ancora verso l'alto e vediamo subito i grafici come stiamo andando e quindi eccoci qua ancora col Nasdaq che mette segno in questo momento siamo sul future quindi non c'è il mercato aperto a priori del 3,5% ma il future segna già un più 1,06% quindi in grandissimo spolvero, in grandissimo rialzo non sembra voler fermarsi, non sembra per niente voler arretrare malgrado tutti gli alert e tutte le condizioni che potrebbero esserci poco favorevoli ma più 1,06% nuovo record 12.236 dollari per il Nasdaq record veramente impensabile è andato veramente è ancora nell'area unbelievable che io vi avevo detto e avevo disegnato un po' di mesi fa ma veramente incredibile pensare in questo momento a un Nasdaq così forte positivo anche l'SP500 sono sempre sul future qui siamo più 0,3% il Dow Jones invece meno 0,7% come potete vedere l'Industrial questa è la chiusura di ieri ha segnato un po' il passo ieri rispetto agli altri due future gli altri due indici dove l'SP500 aveva chiuso leggermente negativo il Nasdaq invece leggermente positivo anche dello 0,70% mentre oggi andiamo a vedere il MIB più 0,30 il DAX più 0,50 il UK invece segna il passo meno 1,7 la Francia leggermente positiva quasi piatta chiude la Cina più 1% quindi il mercato cinese continua ad andare un po' sulle montagne russe in questi giorni ma continua a rimbalzare sulla media a 21 periodi quindi come potete vedere questa media in questo momento è usata come supporto sul mercato cinese Langseng ha chiuso praticamente invariato a meno 0,02 guardate qua come siamo messi abbastanza piatti in questo momento ma poi parliamo del Langseng in maniera un attimo diversa il Giappone leggermente positivo l'Australia ha chiuso leggermente negativo vi faccio vedere una cosa che ho preparato ieri per i miei utenti di Etoro per i miei follower di Etoro e per i miei copiatori dove ho fatto vedere le performance di agosto dei mercati dei maggiori listini e le avevo paragonate al mio portfolio quindi se non siete i miei follower i miei copiatori su Etoro non vi preoccupate non guardate diciamo la statistica di questo portfolio ma guardiamo quelle che sono invece è interessante vedere cosa hanno fatto nel mese questi listini quindi il Nasdaq nel mese di agosto ha fatto più 10,80% il Dow Jones più 7,11 l'SP500 più 6,82 quindi i mercati americani sono quelli che hanno guidato la riscossa ancora una volta segue il Nikkei quindi il Giappone più 4,88 la Germania più 4,56 la Cina solo 2,78 il Mib italiano 2,61 Langsang di Hong Kong il 2,46% quindi comunque positivi i mercati nel mese di agosto chi più ovviamente Nasdaq e Dow Jones e S&P500 guidati ovviamente dalle solite aziende dalle grandi performance delle big five della tecnologia anche dopo lo split grande balzo di Tesla ieri dopo lo split più 12% molti retailer sono entrati molti piccoli investitori sono entrati su Tesla non vedevano l'ora di entrare su Tesla e quindi a 430 dollari il prezzo è sembrato molto più appetitoso di 1.800 o di 2.200 e quindi sono entrati molti investitori su Tesla anche Apple Apple a 130 dollari il prezzo è molto molto appetibile anche Apple ieri ha fatto più o meno più 5% se non ricordo male andiamo a vedere un attimino come si sono comportati le varie aziende ieri Google meno 0,60 Facebook meno 0,1 Microsoft meno 1,4 Intel rialza la testa e si riporta a più 1,03 superando finalmente i 50 dollari tornando in qualche modo a far ben sperare per il proseguio del trend in questo momento il pre-market misura 5,89 quindi siamo 50,89 quindi siamo leggermente in media poco positivi ma vedremo poi quando aprirà il mercato ancora presto Apple più 3,99 ieri e qui siamo già con i prezzi aggiornati dopo lo split e oggi misura in pre-market un leggero rialzo positivo Amazon più 1,40 anche qua su Amazon in molti si aspettano uno split delle azioni perché 3,450 dollari è veramente per pochissimi sono veramente pochi quelli che possono permettersi di acquistare azioni a questi livelli AMD ieri più 6,10% grande balzo di AMD che ha riportato in alto un po' tutto il mercato dei semiconduttori nuovo nuovo record quindi per AMD che è andato a toccare addirittura i 92 dollari e segna un pre-market in questo momento di 90,89 quindi molto molto bene e va bene un pochino tutti anche Pinterest più 4% Tesla addirittura andiamo a vederlo dopo lo split ieri ha fatto più 12% guardate qua che candelone e qui adesso bisogna ridisegnare tutti i grafici perché ovviamente essendo stati modificati i livelli di prezzi tutti i miei disegni si sono andati un po' a farsi friggere diciamo e quindi dovrò rivedere un po' però nel frattempo ho disegnato i vari supporti i nuovi supporti sono questi qua il supporto più vicino è a 393 dollari quindi per il momento diciamo Tesla continua a marciare e alla grande continua a marciare sembra non volersi davvero fermare quindi qualcuno mi chiedeva ma rivedremo di nuovo i 1500 dollari su Tesla non si può dire nessuno ha la sfera di cristallo ma di certo se questo è il trend di Tesla chi può dirlo veramente e detto questo andiamo subito a vederci cosa sta facendo in questo momento Tiscali perché prima ho visto che era fermo il prezzo eccolo qua perché era stato sospeso al rialzo guardate qua il candelone di Tiscali allora c'è da dire su Tiscali che stiamo parlando ormai di una penny stock quindi di un'azienda che vale meno di un euro per azione addirittura siamo a 0,021 centesimi cioè io mi ricordo quando Tiscali quotava veramente delle cifre incredibili vediamo se andando indietro nel tempo magari non sul giornaliere lo portiamo sul mensile magari se riusciamo ad andare un po' di storico indietro guardate qua quando Tiscali quotava 48 50 euro era veramente il boom economico vi ricordate era il 2000 ed era la bolla di internet bolla che poi esplosa riportando qua Tiscali veramente a livelli veramente incredibili andando a sfiorare addirittura allo zero e è stato veramente un periodo pessimo per chi aveva acquistato durante quella bolla e in questo momento diciamo quindi Tiscali rialza la testa perché c'è questo accordo questa new company che si sta occupando diciamo di gestire in cooperazione i nuovi lavori della fibra quindi c'è Team c'è Fastweb c'è dentro ovviamente Enel con Open Fiber l'interesse di Tiscali quindi anche Tiscali in questo momento sembra aver raggiunto un accordo con Telecom e quindi questo ha fatto balzare sicuramente il titolo in questi due giorni spero per Tiscali che possa comunque uscire da questo spettro da questo fosso della penne in stock e possa tornare a quotare nel futuro valori di prezzo un pochino più decenti diciamo di questi che sono veramente incredibili passiamo oltre andiamo a dare un'occhiata al gas perché ieri sul gas c'è stata una piccola di Atriba diciamo abbiamo fatto uno scambio di opinioni su Toro con alcune persone e io ho detto che il gas in questo momento per me è in un trend estremamente positivo perché sia sulla stagionalità che su dal punto di vista del supporto tecnico quindi da quello che dice il grafico in questo momento il gas secondo me è ancora in una fase abbastanza positiva al di là di quelli che sono gli stoccaggi in questo momento siamo a natural gas qui stiamo sul future ovviamente questi sono i contratti di ottobre se non mi ricordo male stiamo a più 0,57% molto che ho spiegato ieri è stato qui abbiamo avuto il golden cross ma non è tanto il golden cross che ci deve far pensare è il fatto che il golden cross sia avvenuto in un momento in cui i prezzi sono molto alti cioè molto alti sono superiori alle due medie lente quindi sia quella 50 che 200 periodi ma soprattutto sono lontani dalla media a 21 periodi della media a 18 e guardate qua continuano ad appoggiarsi sulle medie veloci e questo è il fatto che quindi sono degli indizi che ci dicono che il trend in atto in questo momento è estremamente positivo non so se questo trend continuerà nei prossimi giorni statisticamente possiamo dire che in questo momento il gas da un punto di vista stagionalità tende sempre un pochino a rialzare a rialzare il prezzo e questo avviene in genere tra fine agosto e metà settembre fine settembre però sono statistiche basate sul corso degli ultimi 20-30 anni ma non è detto che il prezzo poi arrivi a 5 dollari nel senso sono statistiche che magari il prezzo parte da 0,1 arriva a 1,5 quindi l'anno prima però magari il prezzo era a 3 e è arrivato a 5 cioè si basa su questo qua le statistiche non sul fatto che torni a 5 dollari nessuno sta dicendo questo nessuno può dire che tornerà a 4 dollari per dire stiamo dicendo che in questo momento basandoci sulla statistica basandoci sullo studio dei grafici il trend è al momento positivo poi domani può cambiare e questo nessuno può saperlo perché gas come il petrolio è una materia prima estremamente manipolata quindi fate molta 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 attenzione altra materia prima molto molto interessante che in questi giorni sta riprendendo forza è l'oro 1.988 quindi l'oro in questo momento dopo essere entrato in questo canale di queste ultime settimane uscillando tra i 2000 e i 1900 sta cercando un po' di riprendere la propria strada da quello che ho visto dalle statistiche sembra che nel mese di agosto ci sia stato un calo perché ci sono stati meno acquisti sul metallo giallo soprattutto da parte dei vari etf e dai vari fondi e quindi questo ha un po' diciamo probabilmente sbilanciato alla corsa ora sembra che la cosa si stia un attimino ripianificando e l'oro ha ripreso a correre in questo momento 1.989 e corre anche di gran carriera staremo a vedere se riuscirà a superare questi livelli qua intorno ai 2000 che per il momento sembra essere una soglia psicologica e poi dopodiché c'è questo livello a 2037 più o meno che è un supporto una resistenza abbastanza forte due parole che spendiamo su bitcoin che finalmente torna a sfidare di nuovo i 12.000 come avevo detto nei giorni scorsi bitcoin stava scaricando le posizioni pur rimanendo leggermente laterale ed era passato leggerissimamente sotto le medie veloci ma stava scaricando le RSI così come aveva già fatto alcuni mesi fa e in questo momento potrebbe prepararsi di nuovo al balzo quindi occhio al bitcoin che non è escluso che potremmo vedere di nuovo superare i 12.000 e puntare verso i 13.000 o i 14.000 quindi veloci aggiornamento per il momento è tutto non ho molto altro a dirvi ci aggiorniamo più tardi con qualche post magari o faremo dei nuovi video adesso non lo so staremo a vedere e andatevi a vedere il mio video sulle medie mobili di qualche giorno fa che è molto molto interessante e come al solito spero che i miei video siano utili vi piacciono iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati come sempre lasciate dei commenti dei like stay tuned e finger crossed ci vediamo alla prossima ciao a tutti